buongiorno a tutti con questo video vi voglio far vedere che prosegue la mia vita diaconale qui a frinco le notizie sono prese sul bollettino parrocchiale uscito nel 2018 che racconta quello che è successo l'anno precedente, quindi nel 2017 quindi così adesso io vi faccio vedere subito come vedete questo bollettino è a colori è il secondo che viene fatto a colori molto bello è marzo 2018 e qui si vede castello molto bello è ecco qua bene andiamo avanti la copertina era quella l'amico di frinco è il solito titolo che da tempi in memory si chiama l'amico di frinco poettino parrocchiale andiamo avanti ecco qui c'è l'editoriale di don claudio tutto a piena pagina tutto a colori molto bello e questo è il luogo che avanza perché io i bollettini li ho sempre fatti in bianco e nero perché non avevo altre possibilità adesso con la rigore di don claudio si sono fatte queste cose molto interessanti qui potete leggere tranquillamente e non visto lì tanto si legge molto bene perché è in grado adesso io vado giù vediamo avanti vediamo dove termina così ecco qua dovrebbe terminare qui questa pagina pagina 1 perfetto qui tutto quello che dice don claudio è qua poi andiamo avanti ah no proseguo ancora c'è un'altra pagina ecco ancora qui questa lascio lì un attimo termina qui con affetto don claudio allora fratello sorella che mi leggi a che velocità vuoi andare tu beh riferito a qualcosa che leggerete piano piano e vi auguro in questo tempo di quaresima un buon cammino pagina 2 questa è la pagina 3 allora questa è daniela che scrive e dice sono passati in pochi mesi ed eccoci con un nuovo numero del bollettino parrocchiale condizioni riguardanti dal 2017 gennaio 2018 in questa edizione abbiamo pensato di riprendere la denominazione l'amico di primo titolo che è stato utilizzato fino a dicembre 2007 modificato a causa dell'unione delle tre parrocchie abbiamo provato a rinnovare un po la grafica iniziando ad aeroporto in copertina che avete ricevuto che aveva ricevuto qualche critica per la poca definizione delle immagini adesso abbiamo un nuovo impaginatore grafico massimo che sarebbe il suo figlio che aveva già detto il quale nonostante tutti i suoi impegni lavorativi mi ha aiutato nella stesura di questo numero e seguirà in futuro la parte grafica i brani senza firma non sono sono quasi tutti articoli scritti da me pubblicati dalla gazzetta d'arte ringrazio tutta la redazione per il lavoro svolto e vi auguro buona lettura e brava daniela rinnovo del consiglio pastorale ecco qui leggete pure tanto guardate c'è scritto cosa succede il consiglio pastorale ecco qua in parole povere i componenti sono don claudio di acolo francesco di diritto e poi c'è da qualità sono stati avretti luigi daniela giovanna e angelo e nominati da parco tra parentesi criterio seguito dalla nome accattivo sanno affari economici fusco grazie cantoria pugnato marileno legio marie malati comotto giuseppe caritas passeggiate i piloni votivi è il classico giro dei piloni votivi voi leggete ci sarà poi anche una foto eccola qua con lo sfondo molto bello delle colline ecco qua tinteggiatura della chiesa qui appunto nel mese di luglio 2017 è stata realizzata la tinteggiatura della sua vice esterna della chiesa di san difendente e qui racconta un po un po di storia ecco qua beppe principale artefice beppe e luigi che è lui che ha scritto l'articoletto bene ecco qua e guardali qua luigi e forse suo figlio e col cestello che sono andati su e hanno fatto un bel lavoro e poi è venuta proprio bella guardate che bello che è con i doppi colori molto bello sì poi è stata messa anche la madonna ecco qua poi c'è museo della memoria ecco questo lo devo leggere perché mi interessa a me domenica 30 luglio alle 18 si è rivolta l'inaugurazione del luogo della memoria alla presenza di don claudio dell'autorità civile della popolazione adesso si trova l'antica chiesa confrateria san bernardino il diacolo francesco cantino ci ha presentato questo luogo ha preso poi la parola il vice sì il vice allora era vice sindaco luigi ferrero che ci ha invitati a riflettere sulle importanze questo spazio espositivo che prossimamente potrà essere metà anche per le scolaresche al termine don claudio lo ha benedetto dopo ha avuto seguito rinfresco grazie alla perseveranza e costanza del nostro diacono francesco che con appassionante ricerche il suo desiderio recuperare e conservare le testimonianze della civiltà contadina i frichesi possono avere un luogo che ricorda il loro passato frico vanta di avere dato di natale a ben 16 sacerdoti otto suore dal 1850 al 1950 in particolare tre missionari padre carlo ferrero giuseppe del spandone per il cantino secondo cantino e la grande figura di benindarico che serva di dio nella seconda parte della chiesa c'è una raccolta di testimonianze e ricordi della città contadina i nostri giusti compaesani affinché nulla di quanto è stato fatto nel passato venga dimenticato entrando in questo luogo bisogna scordare per un attimo il mondo d'oggi radio televisione cinema discoteca cellulare automobili e guardare questi attrezzi che testimoniano la povertà la miseria l'umiliazione sacrifici sudori la fame il freddo e sofferenza dei nostri i nostri i nostri genitori e dei nostri genitori cerchiamo di non dimenticare tutto questo soprattutto il loro desiderio di creare per noi un mondo migliore ecco qua alcune foto molto belle significative don claudio franco gaspadone qui sono io quello dietro c'è beppe comotto e ferrero poi questa è una veduta durante appunto questa manifestazione sullo sfondo qua vedete i vari attrezzi le cose e laggiù invece è la parte del presbiterio ecco qua bene allora questa invece è un'altra storia è praticamente l'ho trovata non so se l'ho firmato io non mi ricordo più comunque è così che è andata la cosa interessante la grande croce a frigo in località roceto anche perché appunto è la nostra croce siamo qui a due passi sua strada che va verso la chiesetta di san rocco c'è una grande croce in pietra nel mese di apri scorso il comune ha provveduto sul lavaggio completo per togliere costazioni causate dal tempo che passa molte di queste costruzioni come anche piloni cimpi lapidi eccetera sono ancora presenti i nostri paesi a testimonianza di una devozione popolare che attraverso il segno la croce in cui abbiamo accennato all'inizio pur essendo ben visibile per chi tratta rischiava di essere dimenticato e nessuno si ricordava la data della sua costruzione così l'occasione della sua pulizia ha dato via ad una ricerca che ha dato i suoi punti su di un bollettino parrocchiale del 243 si trova un necrologio scritto dal paro trovato lo storiografo qua sono io dal paro di quel tempo don giovanni riccio che recita così nel pomeriggio dell'11 aprile 1943 88 anni moriva becchio romano cristiano convinto nei 25 giorni che tenne letto ricevette più volte la cura ne chiese lui stesso l'olio santo conservò la mente sempre lucida e il suo brio quasi fino all'ultimo ricordava tutti gli arrivamenti del paese rievocò dettagliata dettagliata la reazione la erezione della croce sulla stade di san rocco nel 1896 quando un padre giusto cappuccino produciò queste parole o croce oggi è il tuo trionfo ma ricordati verrà giorno in cui i cristiani passandoti vicino non ti faranno neanche più di un chino e fa anche riva ed è proprio così commentava romanino le cose vanno male perché si dimentica troppo il dio io lo so perché in 88 anni ho visto il buttamento di frigo teniamo queste parole di un veterano con un testamento spirituale ritorniamo alla pietà dei padri fu il sindaco fu sindaco per vent'anni i suoi funerali furono soleni così grazie a questo necrologio abbiamo scoperto la data in costruzione 1896 e le motivazioni di altre date incise sulla stessa 24 settembre 2017 ore 16 45 prima della festa videnziale si è radunato gruppetto di persone nella zona noceto la località noceto che è la nostra strada davanti alla croce della suddetta località e diacolo francesco cantino ha benedetto la targa inserita per l'occasione la targa ricorda l'anno in costruzione 1896 don claudio termine dato l'edizione finale a tutti a coloro che hanno partecipato ecco qua che bella questa è la nostra la nostra croce da sempre e mi ricordo che mio padre mi diceva che tutti diciamo i capi famiglia di quel tempo avevano lavorato avevano messo qualcosa di loro per la costruzione di questa bella croce ecco qua bene festa degli anziani andiamo avanti più o meno che vi lascio leggere perché qui già pomeriggio nel cortino del centro pastorale lui giravizzo vedete che funziona quando le cose si iniziano impostare bene poi poi vanno avanti ecco leggete bene ecco qua gli anziani axi quella è una vecchia foto foto della leva del 37 di questa foto del 1937 e alcuni sono qui presenti oggi festeggiati e c'è ancora un'altra pagina eccola qua di solito beppe e alberto che fanno le loro scenette molto simpatici e qui la storia continua e questi sono quelli del 37 e lì ci sono io pratica quello che era stato designato nel 2010 da francesco bonvicino e da maria e da mario è così qua e qua c'è un altro gruppo questo è un'altra leva del 47 che è avvenuto in un altro momento l'anniversario di matrimonio questi sono quelli che hanno partecipato da 55 anni a 10 anni leggete eccoli qua ecco 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 processione 8 settembre e è pratica ogni pagina già la sua e si qui è venuto appunto il suo arrivo il vescovo c'era vescovo la sua re ha visitato con molto interesse il museo della memoria da pochi mesi aperti creato dal nostro diacolo francesco numerose persone intervenute bla bla adesso poi vi faccio poi vedere anche delle foto ne ho tante ecco qua ecco qua dovrebbe terminare qui inizio il catechismo ok tutti i nomi dei bambini di quell'anno le catechiste ecco qua quanti bambini bene la cantoria in trasferta dove è andata a cantare non me lo ricordo per quelle sere a castello a ferro per fare il cantina messo lei si è arrivata dal vescovo in quella chiesa benissimo sandra che ha scritto questo articolo bellissimo ecco qua cantoria qui a chiesa di castello a ferro poi qua c'è ancora concorso presepi vabbè questa tradizione che è stata presa da solo un paio d'anni da quando è arrivato Don Claudio sta dando i suoi frutti è una cosa simpatica ecco per esempio ah si abbiamo fatto vedere si per esempio i vari anche si non si vedono tanto bene come sono in piccolo un altro altro ancora un altro ancora qui deve essere una gita all'eolandia l'inizio della catechista ha organizzato la caccia al tesoro con perfidare la parola all'eolandia premio cosiddetto non era quello che ho detto ed era un'altra cosa che non ho manco vissuto io non me la ricordo e bambini vabbè qui c'erano i bambini del catechismo la gita eccola qua la gita a cogne ecco qua la gita con foto a cogne beh la valle di cogne me la ricordo molto bella 40 anni e non sentirli qui deve essere la deve essere Franco che racconta un po' la storia della Proloco molto interessante anche questa voi leggete ecco qua al fine della pagina è qui poi ce n'è ancora una Franco Garpadone ecco qua firmato spiega un po' tutte le cose questo è un bel gruppo che si è formato meno male che ci sono giovani che vanno avanti se no qua Free Cross un'altra cosa organizzata sempre dalla Proloco società e voto soccorso scuola gruppo caritas parrocchiale eh Sandra che scrive poi c'è ancora vabbè Banco di Beneficenza ecco qua Banco di Beneficenza nuovo servizio di Venezia Anziani a Frinco eh ecco qua sì perché noi eravamo volontari seo varrilate che era dall'altra ballata e poi Renato che è presidente è uno molto determinato è riuscito a creare questo servizio di Venezia Anziani Valleversa ha preso casa dell'ex scuola di San Dependente e qui il piccolo ufficio dove la gente telefona è per avere il servizio eh qui c'è tutte le spiegazioni è Renato che si firma lì in fondo eccolo qua benissimo leggete ecco qua questa è la benedizione dell'autor del Sea Sea Valleverse eccolo qua Don Claudio che da l'edizione e poi c'è bollanagra perché non sto via farlo vedere matrimoni pochi sempre solo uno o due defunti tanti bambini nati quasi nessuno anzi mi pare che proprio non ce n'era manco uno mi pare che ah sì uno forse battesimo un eccolo qua un battesimo e due matrimoni è bollan defunti e poi finisce sì con tutte le ore di foto ben disposte certo che ha colori è tutta un'altra cosa le offerte le pagine delle offerte è bollanagra vabbè le entrate le uscite è stato aggiunto qualche volta l'abbiamo tralasciato le volte le mettiamo ne dipende nei momenti come che è la pagina finale l'ultima di copertina ci sono notizie varie ecco qua allora oh bene sono contento che siamo arrivati al bollettino del 2018 che racconta le cose del 2017 benissimo io vi ringrazio anche per questa vostra pazienza per ascoltare queste cose leggere con me perché diciamo che le cose lette e commentate un pochino uno magari le segue un po' meglio i bollettini oramai chiaro che uno quando arriva una volta all'anno poi se uno qualcuno magari le tiene mette un cassetto magari va a vedere ma la maggior parte delle volte vengono buttati e poi uno non sa più cosa è che è successo invece è così con questa storia qua di youtube che è una buona cosa grazie grazie grazie